Direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini e che noi del 99 che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave siamo sempre quelli di allora e allora quando tuone il cannone è la voce della patria che chiama e noi risponderemo presente le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia ci troveremo allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e dovunque e getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente per l'indipendenza del paese e al solo scopo del bene indisolubile del re e della patria viva la repubblica, viva l'esercito!